Ci sono parole che non sono mai state scritte, perché non servono a niente. Vi invito a riflettere su questo spinoso argomento, ponendo il caso che si voglia generare una parola, ad esempio plastivoro, occorrerebbe necessariamente trovare il concetto che la riguarda. I concetti non ci sono più, sono furbi, si sono nascosti altrove. D boxante Sì, dalì sì, di aboli D in casa Di aboli D. Di aboni Di aboni Di aboni Di aboni Sì, dalì sì, di aboni Grazie a tutti. Grazie a tutti.